Vi dirò, avevo in programma di fare questo video da un po', ma la scintilla che mi ha portato ad anticiparlo prima del suo tempo è legata alla serie che ho portato su Twitch di Pokémon Rubino, nella quale ho cercato di affrontare l'intero gioco con solo Pikachu. Uno dei prossimi video riassumerà e narrerà questa vicenda. Ma il punto è che giocando la terza generazione, in particolare giocando Pokémon Rubino, ho un po' rivalutato questo titolo. Ed essendo fresco di riflessioni a tal proposito, eccoci qua. Quali sono i veri difetti che Pokémon ha palesato negli ultimi tempi in ambito videoludico? Un titolo alternativo a questo video potrebbe essere quali siano i requisiti che un gioco Pokémon deve avere per essere considerato non un buon gioco Pokémon, ma un gran gioco Pokémon. Domande che sorgono, ed è evidente, dallo scarto che noi percepiamo tra le ultime generazioni, e mi riferisco in particolar modo all'ottava, e le generazioni precedenti, partendo dall'era Game Boy fino ad arrivare alla fine di quella di essa. Con uno sforamento più o meno sindacabile in quella 3DS. Bene, direi che è arrivato il momento, dopo avervi introdotto l'argomento, di darvi il benvenuto in questo nuovo Critical It. Parto subito col dire che no, la grafica in sé, a mio avviso, non fa alcun tipo di differenza. Cerco di spiegarmi. Si può parlare di una bella grafica per quanto riguarda titoli come Pokémon Smeraldo, Platino, Art Gold o Nero e Bianco che sono entrati ugualmente nei cuori dei giocatori? Spesso ad oggi viene proposto il confronto tra quelle che sono le caratteristiche tecniche di un titolo come Zelda Breath of the Wild, che è sicuramente una cima nel suo campo, e la qualità grafica di Pokémon Spada e Pokémon Scudo per dimostrare le presunte inadempienze tecniche di Game Freak. Che però, se la portate al panorama videoludico generale di qualsiasi epoca, sono sempre state palesi. E a riprova di ciò, quando neanche un anno e mezzo fa uscivano Pokémon Let's Go Pico, cioè Pokémon Let's Go Eevee, sulla stessa console di Pokémon Spada e Pokémon Scudo e con molti dei difetti grafici che ha presentato anche il primo titolo di ottava generazione, tra tutte le critiche che pur sono state mosse al remake di Kanto, nessuno ha fatto i memini su quanto i Pokémon grandi apparissero piccoli in battaglia. Così come nessuno ha chiamato in causa più di tanto il ben noto ormai Pokémon Colosseum o Battle Revolution a seconda di chi muove la critica, che è indubbiamente uno stile di lotta e delle animazioni molto più convincenti. Insomma, la grafica in sé non è rilevante. Non siete convinti? Se domani venisse annunciato un gioco Pokémon ufficiale che portasse con sé un revival della grafica 2D, per dire, uguale a quella di Pokémon HeartGold e SoulSilver, al di là dei discorsi riguardo alla pigrizia che si potrebbero fare, lo comprereste o non lo comprereste? Io credo che se siete fan Pokémon della mia generazione, quindi di chi è iniziato a cavallo tra Game Boy e Nintendo DS, li comprereste ugualmente. E ciò nonostante è indiscutibile che Pokémon HeartGold, se era portato al mercato attuale, abbia una grafica ben al di sotto di Zelda Breath of the Wild, esattamente come Pokémon Spad e Scudo, no? E allora ci dobbiamo chiedere, dove sta la differenza? Ragazzi, è evidente che per far uscire sul mercato un gran gioco Pokémon che sia percepito così dalla community, non sia mai stata necessaria una grafica impeccabile ed eccellente. Ciò che ha scaturito le lamentele riguardo alla grafica di Pokémon Spad e Pokémon Scudo, sono state indubbiamente le dichiarazioni imbarazzanti di Masuda al E3 riguardo al taglio del Dex nazionale e alle sue motivazioni. Ma ciò che è legittima, a mio avviso, è la mancanza di coerenza grafica in Pokémon Spad e Pokémon Scudo, che è una cosa diversa dal non avere una bella grafica. Se Pokémon Art Gold, per citare un esempio già fatto, presenta uno stile uniforme, sempre uguale e che conferisce uno stile alla cartuccia, nonostante la grafica in sé sia a livello oggettivo più arretrata rispetto ad altri giochi, Pokémon Spad e Scudo viaggia di fatto su due standard all'interno del gioco stesso. Uno standard tutto sommato buono, legato agli sprite dei Pokémon, alle cutscene e a zone come il bosco assopito, è uno standard ampiamente insufficiente, come dimostrato nelle aree selvagge o ancora peggio nel post-game. Questa dicotomia presente all'interno di Pokémon Spada e Pokémon Scudo mina innanzitutto lo stile grafico del gioco, e sotto il punto di vista della grafica è in realtà questo il reale problema, perché Pokémon Spada e Pokémon Scudo fa spesso, troppo spesso, storcere il naso in virtù di imperfezioni, e non di uno stile grafico da bocciare dall'A alla Z. Imperfezioni che sono dovute, ed è evidente, ad una necessaria maggior cura di un prodotto nel momento in cui, passando da due dimensioni a tre dimensioni, hai letteralmente una dimensione in più da curare. E purtroppo, specialmente in ottava generazione, abbiamo avuto la conferma che questa cura non è stata particolarmente presente, portando così il gioco a perdere di fatto tutta una coerenza grafica che fino a prima c'era stata. Questo è sicuramente un problema di Pokémon ed è un problema nuovo che nei prossimi titoli va ridimensionato. Detto questo, il video è ancora lungo e noi di difetti ne dobbiamo ancora elencare, ma credo che si possano riassumere tutti in un macro difetto, a sua volta riassumibile in una parola chiave. Povertà. Povertà di esplorazione e povertà di trama. Rispettivamente, niente di lontanamente paragonabile all'esplorazione che abbiamo avuto in terza generazione e niente di paragonabile alla trama che abbiamo avuto in quinta. Ragazzi, ho giocato su Twitch a Pokémon Rubino dopo tanto tempo che non lo prendevo in mano e Owen Diamine è una regione che esplode di contenuto. È piena di luoghi raggiungibili ed esplorabili completamente la seconda volta che si passa dalla zona grazie a strumenti ottenuti totalmente in altri luoghi. Penso alla Grotta Pietrosa di Bluruvia, penso alle cascate Meteora, penso alla vecchia nave, alla Quizzoteca, a Ciclanova e mille altri luoghi e percorsi ostruiti da laghi, cascate e massi. Un elemento questo dell'esplorazione che nel tempo, dalla terza generazione in poi, si è leggermente affievolito ma che con l'ottava generazione è sparito del tutto praticamente. Unima, che fino all'altro ieri era considerata la regione lineare per eccellenza e quindi la peggiore sotto questo punto di vista, è clamorosamente meglio di Galar. Banalmente a Unima abbiamo il Castello Sepolto, un luogo all'interno del quale occorre tornare più e più volte nel corso della trama e che è esplorabile in vari momenti, cambiando ogni volta sfaccettatura. E già che abbiamo citato Unima, parliamo anche di trama. Pokémon Spada e Pokémon Scudo ha una lore grandiosa, una lore ben sopra, a mio avviso, a quella espressa in quinta generazione e immaginate quanto è bella, di fatto, la lore di quinta generazione e che se non ci fosse la quarta con tutti i suoi indizi riguardo alla creazione del mondo Pokémon sarebbe indiscutibilmente la migliore. Il problema allora qual è? Il problema è che in ottava generazione la lore è subentrata alla trama, che nei giochi di fatto è assente e si riduce, ahimè, alla trama di prima generazione, che lo ribadisco è difficile quasi da chiamare trama. Unima ha una buona lore, attorno a questa lore si sviluppa una grande trama e soprattutto dei grandi eventi. A Galar e in Pokémon Spada e Scudo gli eventi mancano. L'unico forse davvero degno di nota è la distruzione del murale all'Ethermore, ma per il resto esse si limitano l'esplicazione di dettagli di lore riguardanti i due lupi leggendari e la notte oscura. Voglio dire, la maggior parte degli eventi in Pokémon Spada e Pokémon Scudo è costituito da Sonia o chi per lei che parla. E attenzione perché la cosa non è negativa in senso assoluto, tanto che se avete seguito il mio Let's Play in live di Pokémon Spada e Pokémon Scudo saprete che io ho apprezzato per gran parte del gioco questa soluzione, ma rinunciare ad eventi effettivi legati alla trama come possono essere quelli del Monte Camino o della Torre Dragospira è una scelta che non può non essere compensata da altre soluzioni di gameplay. Ora prendete queste mie parole con le pinze. Recentemente ho riniziato a giocare a Zelda Breath of the Wild e benché io non abbia né tanta esperienza né tante ore su quel gioco, vi dico che attualmente ho la sensazione, che mi confermerete voi nei commenti qualora fosse corretta, che la struttura di Pokémon Spada e Pokémon Scudo e di Zelda Breath of the Wild presentino delle somiglianze. Quello che voglio dire è che anche in Zelda la trama mi è apparsa come sostituita da una lore che mira a spiegare degli eventi del passato per giustificare una situazione presente, facendo per questo leva su eventi del passato che sono narrati e non giocati. Ma la differenza con Pokémon Spada e Pokémon Scudo è che nonostante non vi sia una trama che indirizza il giocatore, il gioco è comunque pieno di cose da fare. Badate bene, non sono qui a dire quello che molti altri hanno detto, ossia che Pokémon dovrebbe emulare Zelda Breath of the Wild, l'omologazione ragazzi è sempre sbagliata. E non ho nemmeno la presunzione di avere ragione rispetto a quello che ho asserito, ve l'ho detto io non ho esperienza su quel titolo, comunico una mia impressione. Voglio solo evidenziare come se tu basi il tuo videogioco sulla narrazione di eventi passati, allora questo non ti può giustificare a lasciare il videogioco totalmente vuoto. Perché se tu decidi di far poggiare la struttura del tuo videogioco su una lore, allora però devi riempire quel gioco di contenuti che hai sottratto alla trama. Queste secondarie, luoghi da esplorare, nemici di secondo ordine. Arriverà sicuramente quando avrò il mio setup e tutta la mia attrezzatura standard, un episodio di Let's Fix nel quale tenterò di creare degli eventi e delle quest per rendere più succosa la trama di ottava generazione. Ma inizio ad anticiparvi delle idee che ho avuto nell'arco di dieci minuti. Hai creato le terre selvagge che sono letteralmente vuote, fatta eccezione per i Pokémon che le popolano. Mettice lì dei dungeon esplorabili, non so, una grotta all'interno della quale dover risolvere alcuni puzzle per giungere in una stanza dove c'è una rappresentazione molto più dettagliata della notte oscura. Hai inserito un percorso che è un'intera città abbandonata? Inserisci un evento, una quest all'interno del quale io devo raccattare i pezzi di una tavoletta sulla quale vi è incisa la storia di quella città. Oppure permettimi di dover risolvere degli enigmi all'interno della città come del resto hai fatto anche a Tarfield per far sì che io possa ottenere uno strumento importante ai fini dell'avventura. Ancora, inserisci degli NPC nelle terre selvagge che mi invitino a svolgere delle quest secondarie. Ad esempio, catturare un Pokémon per loro o trovare un loro Pokémon specifico nelle terre selvagge. Portare uno specifico strumento ottenibile in una specifica Tana una volta parlato con quella persona. Banalizziamo, rendimi esplorabile il faro di Killford. Parliamo di cavolate, ma sono cavolate che possono rendere il tutto molto più gustoso e stimolare la curiosità per quello che vedremo a fine gioco. Perché altrimenti il problema è un derivato della parola che ho usato poco tempo fa. Ragazzi, non c'è gusto. Perché ciò che è stato fatto, ahimè, non è stato sufficiente per far apprezzare la trama di Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Non lo dico io, che di fatto l'ho apprezzato. Lo dice la community che è divisa. Battere a ripetizioni degli allenatori, tra l'altro non particolarmente forti e assolutamente non caratterizzati, ragazzi, non è riempitivo, è ripetitivo. Così come lo sono il Pokécamping e i Raid Dynamax. Gli ultimi giochi, e mi riferisco in particolar modo a Pokémon Spada e Pokémon Scudo, dal punto di vista dell'esplorazione e delle cose da fare, sono giochi, ragazzi, poveri. Ed è una povertà che nel momento in cui sottrai la trama al gioco, sottrai gli eventi di trama al gioco, non ti puoi permettere. E allora, in conclusione, che cosa serve a Pokémon per produrre titoli che tornino ad unire la community piuttosto che dividerla? Serve, in sintesi, recuperare uno stile grafico coerente e una ricchezza di contenuti. Non è così tanto importante se contenuti di trama, di esplorazione o di gameplay. Non è importante cambiare la direzione della trama, non è importante rimuovere o aggiungere le palestre, non è nemmeno importante inserire cattivi, falsi o veri e finti nemici. Questi sono orpelli, sono elementi che caratterizzano un gioco. Noi stiamo parlando però della base di quel gioco e lo dirò sempre fino allo sfinimento. Una meccanica può anche essere ripetitiva se all'interno di quella meccanica puoi creare dello sviluppo e dell'innovazione. E la meccanica di Pokémon ha questo potenziale e lo ha dimostrato sia a livello di battling con le Dynamax e le Gigamax, le Mega Evoluzioni, le mosse Z sia a livello di storyline, l'ha dimostrato anche recentemente, anche con Pokémon Spada e Pokémon Scudo, Eternatus non è nemmeno un Pokémon. E però questo lavoro bisogna imparare a farlo meglio. E non è neanche fondamentale, aggiungo, aumentare la difficoltà dei titoli. Certo, farebbe piacere a molti, ma ragazzi, ho finito Pokémon Rubino spammando solo Pikachu, non ho incontrato difficoltà insormontabili, non ho dovuto grindare nemmeno troppo. Quindi di cosa parliamo? Benvenga una modalità difficile, ma non è fondamentale. Così come non è fondamentale avere Pokémon perfetti, personaggi perfetti, musiche grandiose e una regione ben caratterizzata. E non ho citato a caso questi elementi, perché sono ciò che di buono c'è in ottava generazione, e ciò da cui occorre ripartire. Ma ahimè, non è bastato, non basta e non basterà. Perché inserire un personaggio come Hop, che solo un idiota può criticare, all'interno di un gioco che però non ha spessore dal punto di vista degli eventi, è limitativo, ma lo è per il personaggio in sé, che non sboccia come potrebbe. E allo stesso modo, inserire un Pokémon con una lore, un concept così evoluto come quello di Toxtricity, in una regione che di fatto non lo valorizza, lo depotenzia. Pensate banalmente a Spiritomb, a Rotom, Pokémon che non hanno nulla di leggendario, ma che sono stati trattati come tali. Povertà di contenuto. Così si può riassumere, a mio avviso, il difetto degli ultimi giochi Pokémon, in vari campi, che cambiano a seconda del gioco preso in esame. E ci tengo a ribadirlo, l'ottava generazione non è come molti estremisti sostengono da buttare in toto, ci sono elementi da cui ripartire, ci sono grandi cose, le ho già citate, ma c'è anche tanto, tanto da rivedere, e quelle cose da rivedere, purtroppo, sono anche le basi. Perché la verità, è che serve un gioco, che ci convinca, e non che ci divida. Che è poi, ironicamente, ciò che Pokémon ha sempre cercato di insegnare. Che l'armonia è la chiave per la pace, e che dividere due draghi non può fare altro che generare disagio, conflitti e guerra. Bene ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così vi invito ovviamente a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale, se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social, per rimanere sempre aggiornati sull'attività al di fuori del canale, e per ricevere contenuti extra, in particolare, mi riferisco a Twitch, e premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo ovviamente in un prossimo video!